Ragazzi oggi arriveremo a 531 vittorie quindi iniziamo Ok guardiamo subito cosa si esce Pain Splash Ok ma fa abbastanza tranquilla Comunque ho fatto una Un amico mi ha fatto una sfida Si arriva a 1000 iscritti entro l'8 febbraio Quindi mio compleanno Penso che mi darà soldi E sapete che i soldi sono importanti Quindi Tipo penso che mi dà soldi Non me li dà Ah è male Quindi iscrivetevi che Arriviamo a 1000 iscritti e con i soldi ci comprerò qualcosa Forse gli Istanbul coins Se mi li dà in piepollo Potrei accettare Anche se mi li dà in manco nota mi va benissimo Intanto siamo No primi secondi ma ci qualifichiamo Ok semifinale Guardiamo cosa ci esce Dai oh quanto ci metto a caricare Ok Ti ho messo un po' ma è uscito Aggiungo il roll Quindi iniziamo al volo dai Siamo nati Eh nati Siamo spawnati a sinistra Male Anche sto calcio male Devo cercare di recuperare ragazzi Eh raga mi sa che non mi qualifico Mi sa che non mi qualifico Forse se uso questa scivolata bene Sì Però anche gli altri me l'hanno fatta Per questo tricozzo Benissimo Ok potrei risolvere la situazione Tanto qui ora La gente da qui cade Posso fare di questo Qui ora sono avanti a questo Faccio il calcio E ci andiamo a qualificare Quinti Ok ora la finale Guardiamo cosa ci esce Non ci credo È un sogno È un sogno È un sogno Sì finalmente Sta mappa Non è Ma erano Cioè io ho visto i blocchi rossi Vabbè Non è Non è Possibile Tipo Posso vincere Ma posso anche non vincere Tipo dipende Questi come giocano Tipo se ora posso Tirare un pugno Però anche Devo farlo meglio Intanto ragazzi Con il blocco Desce infinito Mi sto allenando un botto Tipo Sto migliorando tantissimo Anche con i pugni Non è male Cioè Mano In realtà faccio schifo Ok ora potrei fare qua Di così Non ho preso nessuna Ma non fa niente No volevo tirare un pugno Pugno Ok ora l'ho preso Benissimo Gli spuntoni Qui Posso fargli di questo Lo posso fare così Bene Qui posso usare una scivolata Lui ha il pugno Quindi faccio andare prima lui No Chi ha il pugno Alla scivolata Se usava la scivolata Paggiuro Già parte content Così Eh però questi Sanno giocare No no Non è vero Non sanno giocare E qual è piccato Ok ragazzi Seconda partita Guardiamo cosa ci esce Abbiamo capito che Se esce Block Dash C'è il 99,99% Che vinco Quindi GG Oltre che Gli altri Non sapevano giocare Non sapevano fare T-Rick Però Mamma mia Non riesco a fare T-Rick Oh ecco Già un po' Recuperato Obiettivo Almeno qua Voglio qualificarmi Primo Intanto siamo Già primi Come ho detto Bene Qui tiro un pugno Ti faccio il bodyblock Il bodyblock C'è benissimo Così Ah no Ha sbagliato Da solo Ok Ci andiamo a qualificare Per primi Ok Semifinale Guardiamo Cosa ci esce Humble Stumble Ok Iniziamo al volo Dai Hum No Qui Mi sa che siamo Messi abbastanza male Mi sa Che siamo Messi male No 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 Che salvataggio Qui da un pugno Così muore Quello verde Oggi Non mi sta Sempatico Tipo Prima L'altra volta Non ci credo Non ci credo Non posso Non qualificarmi Non posso Non qualificarmi No Mi qualifico Lo stesso Qualificato Ok Ora la finale Guardiamo Cosa ci esce Non carica Bot Tire un pugno Qua Volevo Tirare il pugno Era morto Ci muoio io Ora Sono già morto Sono già morto Ma invece Sono vivo Ok Ora vado qua Ora Faccio di questo Buono Tipo buono Non molto Perché mi stanno Colpando Tutte le cucinelle Ora posso Fare di questo Beh Molto bello No 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 E questa rossa Da degli alieni Ok Intanto Qua Momento Tra gli Harding Non ci credo Sta sparando Anche questa Ora E tutta Ancora Tutta Questa gente Che salvataggio Che salvataggio Guardate Quante cucinelle Rosse Quello è morto Ora Mi tocca Tirare il pugno A qualcuno Ma non serve Lo tirano Le cucinelle Il pugno Tipo No Non è Come Molto come Pugno E questa Era Perfetta Per tirare Il pugno Ecco Che salvataggio Non ci credo Non ci credo Vinto Ok Abbiamo vinto Due partite Di fila Io spero Che questo video Vi sia piaciuto E vi saluto Ciao